Oggi il nostro Vox Populi lo iniziamo con il papà dell'autore del primo gol di Paolo Antonio, Franco di Paolo Antonio. La soddisfazione più grande? Voglio tutto. Vabbè, adesso, parlando adesso, i giorni sono calmato un pochettino perché ha passato un po' di ore. Però ancora non credo a quello che è successo perché so benissimo che delle volte mio figlio, con il suo ruolo che deve svolgere, non è come il ruolo che è un attaccante che gli capita quasi sempre le occasioni di tirare. Lui adesso ha un ruolo di dietreggiare un po', però gli dici, figlio mio, tu devi fare una cosa sola, tu devi tirare una cannonata, se ti capita, prendi sulla fronte il portiere, quelle casche per te, è finito. La sciarpa c'è, l'entusiasmo pure, Teramo in Serie B, una grande vittoria e soddisfazione. È stato il weekend più bello della mia vita, è stato il weekend più bello della mia vita, stiamo ancora festeggiando e continueremo tutta la settimana, aspettando Ascoli e gli Ascolani sabato. Dopo 102 anni è la sofferenza di un popolo, le lacrime di un popolo, sono troppo contento. È bello vedere i bambini con la maglia bianco-rossa, perché quei bambini hanno un futuro, perché sono orgogliosi del loro passato. Troppo bello, è unico, siamo patetici e orgogliosi di esserlo, forza Teramo. Signora, mi scusi, oggi è vestita di bianco-rosso, è un caso o l'ha fatta poco? È solo un caso, è solo un caso. Sicura? Assolutamente sì. Però, altrimenti, che ne pensa di questo? Sono contenta, sono contentissima che il Teramo sia in Serie B, però era solo un caso. Dalla speranza alla salvezza, cosa ha vissuto? È tutto, dai fantastici anni del buonanimo di Malavolta, e poi si sa come è andato a finire, alla rinascita del Teramo calcio, con l'esordio A, Roseto, se non sbaglio, con il Castle Nuovo, vincemmo 0-3. Sette anni, cinque promozioni e due finali play-off. Meglio di così, non si può. Il cielo su Teramo è bianco-rosso, lo possiamo dire? Sì, anche i sorrisi sono bianco-rosso, anche il tuo. Anche la gente, nonostante il caldo, porta la sciarpetta anche questa mattina. Sì, io mi sono tolto gli abiti di sabato stanotte. Insomma, una grande soddisfazione. Una soddisfazione, grande gioia. Parliamo del cuore bianco-rosso. Del cuore? Sì, del tuo cuore bianco-rosso. Il cuore bianco-rosso ha ancora il gonfio di amore. L'attesa per questa vittoria. Le lacrime di gioia. E poi come ha visto i teramani? Meno male, pensavo che ci fossero meno appassionati, ma quando siamo tornati da Savona, qua ci stavano un sacco di persone. Se la metà verrebbero al campo l'anno prossimo, lo riempiamo tutte le domeniche. Bianco e rosso non sarà solo il cuore dei teramani. L'amministrazione, infatti, insieme al presidente del Teramo Calcio, Luciano Campitelli, stanno pensando ad una città interamente colorata di bianco-rosso. Bandiere su ogni balcone, aiuole con fiori rigorosamente bianchi e rossi, strisce pedonali bianche e rosse e, infine, anche i bus di linea si coloreranno di bianco-rosso.